Il mio mondo cambiò all'improvviso quando delle carte cominciarono a cadere dal cielo sulla terra. All'inizio sembravano innocui, così noi ragazzi inventammo un nuovo appassionante gioco. Ma presto ci accorgemmo che non lo erano affatto e che erano dotati di incredibili poteri provenienti da un altro mondo. Mi chiamo Dan e insieme ai miei amici Runo, Maruccio, Julie, il grande esperto in persona Sean e Alice formiamo la squadra dei combattenti Bakugan. Bakugan, un obiettivo, due monti. La magnifica coppia. Reggetevi, sarà un viaggio movimentato. Oh mamma, speriamo bene. Ah, che botta ragazzi! Cos'è quello? È il grattacielo di Wardington! Quindi siamo tornati sulla terra! Dan, riesci a sentirmi? Rispondi, passa! Gio, siamo qui! Attenzione, cittadini di Wardington! Ci sono degli alieni in avvicinamento. Niente panico. Seguite le istruzioni del manuale di invasione aliena e lasciate le vostre case per trasferirvi in un rifugio sicuro. Tesoro, hai già finito di fare le valigie? Allontanatevi in maniera ordinata. Questa mattina abbiamo sorvolato le acque dell'oceano. Gli alieni che erano apparsi a largo dell'Africa si stanno dirigendo verso Wardington. Ecco ciò che abbiamo girato. Per adesso non rileviamo niente di insolito. Un momento, si sta avvicinando qualcosa. Sembra una ragazza a bordo di un surf. Ehi tu, riesci a sentirmi? Sì, ti sento benissimo. Sembra una creatura aliena. È il momento di conquistare questa città. Da quanto pare sono arrivata per prima. Un campo di forza. Poveri illusi credono di riuscire a tenermi lontana ma gli farò vedere quanto sono forti. Cosa? Tutti i Bakugan cattivi comparsi finora si stanno dirigendo a Wardington? Proprio così. E il nucleo dell'infinito di Wavern ha iniziato a riscaldarsi. Avverte la presenza del nucleo del silenzio di Naga qui sulla Terra. Ma non potremmo fermarli prima che entrino in città? Speriamo. Wavern sta usando l'energia del nucleo dell'infinito per alimentare un campo di forza che lo protegga. Però è uno sforzo immenso. Non resisterà ancora per molto. Se non facciamo qualcosa più che in fretta potremmo perderla. Waver! Coraggio! Cerca di resistere! Non mollare! Drago! Aiutami! È inutile, è solo un pagliativo e si risolverà nel giro di poco tempo. Eh già! E sappiamo bene chi è il responsabile di tutto questo è Naga! So che la situazione è difficile ma non è il momento di perdere la calma. È proprio lei, Kato! Salve! Quei Bakugan sono molto vicini non c'è un secondo da perdere dovete muovervi in fretta se volete fermarli. Un momento da quando qua il nonno dà ordini. Dai un'occhiata qui, Preyas. Wow! Ehi, come fa a conoscere il mio nome? Sono entrato nella rete satellitare della famiglia di Maruccio e ho fatto alcune scoperte inquietanti. Come vedrete presto vi troverete a combattere contro un esercito di Bakugan estremamente pericolosi. So che alcuni di voi hanno già avuto il piacere di battersi contro di loro li ingrandisco perché li vediate meglio. Tricloid! Rabider! E anche Teigen! Sono tutti qui a caccia del nucleo dell'infinito. Ci hanno ingannati! Hanno pinto di perdere per poi coglierci di sorpresa sulla terra! Se fanno il gioco sporco lasciateli a me! Dimmi, Preyas ti sentiresti in grado di combattere? Eh? No, aspetta Maruccio! Ascolta, so che noi due possiamo cavarcela e poi qualcuno dovrà pure impedire i Bakugan malvagi di invadere la città! D'accordo! Allora Gareme io ci occuperemo di fermare Tricloid! Mi sembra un'ottima idea sarà un piacere! Bene, io mi occuperò di Rabider! No Dan penserò io a Rabider! Eh? Secondo me è meglio che Drago rimanga qui insieme a Wavern! Sì, ma perché? Andrà tutto bene! Non sono sola con me c'è Idranoid e poi voglio dimostrarvi di essere a tutti gli effetti un membro della nostra squadra Siamo d'accordo? E va bene! A quanto pare Rabider e Tricloid arriveranno nei pressi della città molto presto Propongo di restare qui e tenere gli occhi aperti Magnifico! E tu sii prudente Alice Stai tranquillo Julie, Maruccio Occhi aperti Combattenti Bakugan sempre in azione! Sì! Attenzione! Si comincia! Ehi, ciao ragazzi! Siete tutti pronti? Mi conoscete, vero? Il mio nome è Jenny e il mio è Jules e insieme forniamo Un duo chiamato Super Sim Sound! Oh! Credevo che lo studio fosse pieno! Cosa ti succede? È il nucleo dell'infinito, vero? Dispiace Non riesco più ad alimentare il campo di forza No! È troppo tardi! Teg è entrata nel campo di forza! Eccola che arriva! Sapevo che sarei riuscita a passare e adesso troviamo il nucleo dell'infinito Naga sarà molto orgoglioso di me Presto dobbiamo cercare di fermarla da soli Coraggio Preyas sai che cosa c'è da fare? Bakugan Mi spiace sorella ma da qui non si passa Già puoi anche andartene questa è una zona vietata ai cattivi Perciò sparisci Giusto gambe in spalla e via Questo è un ordine delle Super Sim Sound Bang! Mamma siete Gianni e Jules? A tutti i vostri dischi lo sapete come mai siete qui? Stiamo facendo una serie di concerti Quando siamo arrivate qui abbiamo scoperto che lo stadio era deserto perché un Bakugan malvagio stava per attaccare E tutti sanno quanto i nostri ammiratori siano importanti per noi e quindi ci siamo arrabbiate Anzi no Ci siamo infuriate! Sentitele le dive E oggi i nostri fan assisteranno a uno spettacolo diverso Detto questo possiamo procedere! Bene non vedo l'ora Oh non ci credo le Super Sim Sound fanno tutto questo per me cavoli Tornati Maruccio Questo non è un gioco ti ricordo che qui si fa sul serio È vero Prius hai ragione Ascoltate ho un'idea Visto che siete qui potremmo formare una squadra e combattere insieme Che ve ne pare? Oh no il ragazzo ha completamente perso la testa Io ci sto Guarda che roba Sei grande Dai facciano vedere Vi è piaciuto veramente L'hai imparato mentre facevamo le prove per la tournée Comunque sei gentile piccolo ma ci arrangeremo da sole Adesso mettiti pure comodo e osservaci mentre combattiamo d'accordo? Ci siamo carta portale in posizione Acqua scura da battaglia Subterra Centipide Non potete attaccare così dovete avere un piano Mi sembra che quelle due sappiano il fatto loro E lo spettacolo continua Puoi dirlo forte Quelle non hanno speranza contro di me Acqua scannonata Mi dispiace ma questa mossa è inutile Carta portale Apriti ora Voglio provare con questa Miraggio sommerso Ok adesso tocca a me Voragine nel deserto Cosa avranno in mente? Che succede? Tocca a spettro della mente Ciao ciao Bella Ce l'abbiamo fatta Siamo grandi Ottimo lavoro Jenny Wow Siete veramente le migliori ragazze Credo di essere innamorato Allarme Non è finita Siete solo delle spaccone Vi sistemerò entrambe in un colpo solo Soffio letale Ora vi salvo io Vai Preios Acquos Preios per servirvi E fosse meglio che provi un'altra mossa Acquos Guardiano Che sicuro State bene ragazzi Come sei carino Credimi ci siamo trovate in situazioni peggiori di questa e non ci siamo mai arrese Te l'assicuro Proprio così E finché ci saranno dei fan come te noi continueremo a lottare Le Super Sing Sound sono le numero uno Sicuro E voi che ci seguite da casa ricordatevi di comprare il nuovo cd Sono davvero in grado le loro canzoni Sì 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 Capitata in vita mia Ma per cortesia Mi raccomando seguitici in televisione Dateci la vostra forza Così noi vinceremo Ma ora vogliamo dedicarvi una canzone Loro cantano e io un posto in prima fila Vogliamo farvi una sorpresa spaziale Combatteremo gli emissari Loro cantano e io un posto in prima fila Vogliamo farvi una sorpresa spaziale Combatteremo gli emissari delle forze e del male Li batteremo ma il vostro tifo sarà fondamentale Ci è mancato poco C'è un modo per riuscire nell'intento ma serve un incoraggiamento Io vado a vedere l'altro talento e per tutti sarà uno spavento Senti point L'ha preso Devo fare sempre tutto io Venite ragazzi da questa parte Jenny Jules siamo qui per voi Grazie amici grazie Questa buffonata è durata fin troppo Mi sono fatto male Non è che non mi piaccia la vostra musica ma visto che ci stanno attaccando trovo che sarebbe meglio concentrarsi sul combattimento Insomma dico sul serio questo non è uno spettacolo Perché tu sapresti fare di meglio Ehi Ho avuto un'idea Ascoltate tutti insieme diventeremo un'unica forza I nostri Bakugan hanno caratteristiche diverse se ci uniremo possiamo vincere diventeremo una forza inarrestabile useremo acqua squadruppo attacco a catena è una cosa è una cosa che non abbiamo mai tentato prima già mi sembra una mossa azzardata lo so ha l'aria di essere complicato certo che lo è e poi cosa ne penseranno i nostri ammiratori io non lo so che garanzie ci sono boh facciamo un tentativo no no non ce n'è bisogno fidati a questo punto abbiamo capito che cosa fare guarda attrattore cosa aiuto che tezzuria ora oh no tutta la gente che c'è sul molo verrà travolta dal suo attacco se questo è il piano che avete in mente non mi interessa unirvi al vostro fan club su stiamo calmi in questo modo chiunque potrà vedere meglio sia noi che il cuore dell'azione e se aggiungiamo un finale movimentato sarà un bel divertimento per tutti allora sei pronto a riprendere camera a me diamo inizio allo spettacolo guardate le vostre beniamine eliminare il bakugan cattivo una volta per tutte basta con le chiacchiere cominciamo a combattere eccoci noi siamo pronti bakugan combattere prendete questo oh no mi si è impigliata la donna nel gancio a lasciarmi andare aiutatemi aiutate prima me oh no sono nei guai chissà se fa parte dello spettacolo ma che tragico incidente resistete ragazzi adesso vengo vi porto in salvo io miraggio di vetro oh no angelo è impossibile ho perso fin troppo tempo con quelle due è ora che faccio quello per cui sono venuta a prendere il nucleo dell'infinito per nota che cosa facciamo Preyas dobbiamo andare a prenderle o per loro sarà la fine le super salt possono finire così mi spiace ho le mani legate ma se torno lassù quella mi colpisce ancora se solo ci fosse il modo di impedire a Teigen di usare le sue abilità non scordate che può usare sia le abilità Ackos che le abilità Ventus riuscirà a fermarla non sarà facile hai detto sia Ackos che Ventus ci sono ho trovato la soluzione preparatevi per l'attacco finale oh no tenteremo il tutto per tutto Preyas ti senti pronto cosa? io no carta portale in posizione Bakugan combatti carta portale apriti subterra fatalità che cosa succede? ehi non sono una carta attributo ma mi sono trasformato lo stesso in subterra vuoi spiegarmi come hai fatto maruccio? è molto semplice la carta che ho giocato fa si che tutti i Bakugan in campo diventino di attributo subterra adesso Teigen può usare solo abilità subterra il che significa che sarà nei pasticci perché non potrà usare le carte abilità legate all'acqua e al vento me la pagherai cara un momento anche tu hai perso le tue abilità Ackos sei davvero convinto di riuscire a battermi rinunciando alla tua arma migliore? non sei abbastanza forte per questo ti ha ragione come pensi di ovviare a questo problema? ora ti spiego Preyas ha la possibilità di cambiare attributo e diventare subterra Teigen invece non è abituata e per lei sarà molto più difficile cosa? ok adesso vai e cerca di fare del tuo meglio coraggio noi dobbiamo salvare le super sink finché siamo ancora in tempo ho capito il tuo piano sì d'accordo procediamo aspetta non ho capito bene spiegamelo ancora aiuto io me lo batto oh no vincite più forte ecco fatto come state? tutto bene? un po' ho tenuto che non ce l'avreste fatta grazie ci hai salvato la vita giusto e te ne saremo grate per sempre dobbiamo finire il combattimento su andiamo cosa? no grazie già io non me la sento di tornare di nuovo nell'arena Preya sta combattendo da sola abbiamo bisogno del vostro aiuto per vincere vi prego mi spiace io mi tiro fuori sembra che dovrei sbrigartela da solo non è possibile voi due non siate degne del nome che portate dicevate che avreste fatto tutto per i vostri fan e che non vi sareste arrese ma forse vale solo quando qualcuno vi riprende beh ecco non sentite queste voci loro stanno ancora facendo il tifo per voi il super kissing sound ha un ammiratore in tutto il mondo e credono ancora in voi riuscite a sentire cosa dicono contiamo su di voi ragazze sappiamo che potete farcela combatteremo si e mi aiuterete a portare a termine il combattimento certo grandioso allora siamo d'accordo puoi contarci faremo qualunque cosa per il nostro ammiratore numero uno qualunque cosa al mondo è tutto il giorno che aspettavo di sentirvelo dire bene e ora entriamo in azione scusate avrei bisogno di un piccolo aiuto resisti mi sembra un lavoro perfetto per diavolo se fossi te non mangerei preias ti farebbe venire il mal di stomaco finalmente libero se collaboriamo potremo vincere questa battaglia conto su di noi carta portale in posizione bakugan combatti carta portale apriti ora acquas fatalità e adesso osservate ho trasformato il campo di battaglia in un'area di attributo acquas e anche sentipoida cambiato attributo passando da subterra ad acquas sì bello e poi l'azzurro è sempre stato il mio colore preferito adesso posso usare acquas quadruplo attacco a catena è vero non ho bisogno dei poteri ventus per battervi posso togliervi di mezzo tutti ricorrendo ai poteri acquas senza problemi ancora tutto da vedere lui è un campione e le super slings ha un combattono al suo fianco coraggio ragazze noi ti impediremo di mettere le zampe sul nucleo dell'infinito tornato di poseidone acquas quadruplo attacco a catena laguna blu portale della forza speciale che succede? no no non è possibile ce l'abbiamo fatta evviva è tutto finito le super sing sound e maruccio hanno vinto complimenti ragazzi siete stati assolutamente straordinari una forza della natura super sing sound siete le migliori è stata un'esperienza emozionante prima o poi dobbiamo ripeterla bravo maruccio sei il migliore davvero un'esperienza 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 un'esperienza